Sono molte le donne che ha ucciso. Non ho tenuto il conto, sono molte comunque. E si congiunge carnalmente con le sue vittime. Sì, e nel momento culminante le uccido. Ha sempre realizzato così i suoi rapporti sessuali? Sì, sempre. E non si è ancora stancato? E tu non hai ancora capito che non sei qui per fare interviste? Sì, tranquillo, non userò queste notizie per un servizio. Volevo solo capire se per lei è giunto il momento di cambiare gioco. Cosa vuoi dire? La smetta finché è ancora in tempo. Fino a oggi l'ha fatta franca, ma non può durare a lungo. E poi le solite torture, le solite grida. Anche le vittime alla lunga finiscono per assomigliare l'una all'altra. E il sangue è sempre solo sangue. Sono convinta che ormai lei non si diverte più. E se anche fosse vero, non ho alternative. Ma sì, invece, ci pensi bene. Lei è un uomo attraente, ricco ed è intelligente. Potrebbe avere tutte le donne che vuole. Con un minimo di corte riuscirebbe a conquistarne a centinaia. Poi si divertirebbe a farle spasimare. A farle soffrire, a farle piangere. Magari anche a farle suicidare. Creda a me, non le occorre seviziare e uccidere per sfogare le sue voglie sadiche. Ci sono tecniche erotiche altrettanto piacevoli e assai meno rischiose. Interessante? Sì, certo. E un giorno scoprirà che una donna le piace in un modo nuovo, particolare. E diventerà la donna della sua vita. E lei sarà felice. E guarito. Ah, tu vorresti guarirmi? Sì. Di piuttosto che vuoi salvare la pelle? No. Voglio guarirla dalla sua malattia. Non ho paura di morire. Io credo nella reincarnazione. Dottrine hindù o pitagoriche? Hindu. Interessante. Lei deve riuscire a guarire. Deve liberarsi dei suoi complessi e delle sue paure. Avere fiducia nella sua virilità. Provi a pensare come può essere eccitante. E quanta soddisfazione potrebbe darle dominare una donna con la sua forza di uomo. Con il suo fascino di maschio. E provi a pensare come può essere bello fare l'amore in libertà. In un bosco. Su una spiaggia. Sull'erba. Nell'acqua. Nell'acqua è meraviglioso. Quando cominciamo la cure? Anche adesso. È una notte d'estate. L'aria ha il profumo dei tigli. Oltre questo cancello c'è un parco deserto e buio. Io... Io sto aspettando l'uomo che amo. Tremo un po' per l'emozione. Ma sono così felice. Lui si avvicina. E mi sorride. Sento già le sue braccia che mi stringono forte. Un dolce languore mi pervade tutta. Mi sembra di diventare piccola, leggera. Come se il mio essere si annullasse interamente. No, basta. Il ruolo della fanciulla romantica non ti si addice. E comunque tu lo reciti terribilmente male. Devi trovare un personaggio più moderno, sexy, più dinamico, più... Lascia stare. Cerca di pensare invece a dopo la morte, adesso che ti sei così vicina. Pensa piuttosto a cosa diventerai con la reincarnazione. Un uomo? Giallo o nero? Un gatto persiano o un topo di fogna? O una iena? Una iena Riddens magari? È tutto finito. Non ti farò più del male. Adesso dice così. E forse lo pensa davvero. Ma poi mi ucciderà come ha fatto con tutte le altre donne. Non ho mai ucciso nessuno. Le foto erano tutta una messa in scena. Il sangue era finto. E le vittime, le urla, tutto finto. Sono professionista. Si fanno maltrattare a pagamento. Io passavo tutti i miei weekend con una di loro, a sfogare in segreto le mie manie. Ho perso la testa l'altra sera. È stata la prima volta che ho rapito una donna. Che ho avuto fra le mani una vittima vera. Per la prima volta, non più finzione, ma la realtà. E tu non immagini neanche quanto sia stato eccitante. Potevo finalmente realizzare una mia idea fissa. Uccidere davvero una donna. Ma nel momento... ...in cui alzavo quelle forpici... ...ho sentito che non ne sarei... ...mai stato... ...capace. ... Grazie a tutti.